Ciao ragazzi, bentornati su Rip Thoughts, il podcast di Mr. Rip. Continuiamo la nostra serie Il filo dell'Arianna e ci avviciniamo alla fine della serie, il che non significa che non toccherò più questi argomenti, ci mancherebbe, mi piacciono tantissimo. Però prenderò una piccola pausa, dopo questo episodio, forse un altro episodio, per parlare anche d'altro. Sto ovviamente, come prevedibile, accumulando anche qui idee su idee su idee su possibili episodi in quantità più elevata di quanto riesco a produrne. È la mia condanna, non ho mai sofferto del blocco dello scrittore, ma anche questo ha i suoi aspetti negativi. Comunque, torniamo in tema. Di cosa parla la serie Il filo dell'Arianna? Parla di rapporto tra denaro, costo, senso della vita, parla di tutto. Ma sono consapevole di non aver risposto in modo esaustivo alla domanda centrale di Arianna, cioè come dare un valore alle spese che fai. Abbiamo visto tre framework per mettere in relazione il concetto di costo di qualcosa in termini di ore di lavoro, mesi di risparmi, anni di future spese, ma non abbiamo risposto alla domanda in più importante che è Perché sono disposto a pagare 10 euro per questo libro e non 30? Dove setto mentalmente l'asticella del prezzo è giusto per una spesa? Quanto mi manca, ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Voi che siete giovani non potete capire. Quello sì che rispondeva alle domande di Arianna. Ed oggi risponderemo a questa domanda? Non lo so, vediamo. Piccola parentesi. Oltre ai tre modelli menzionati negli scorsi episodi, volevo aggiungere una estremizzazione dell'income thinking, che è la aspirational hourly rate di Naval Ravikant, visto che ieri abbiamo fatto la prima parte di Maratona di Naval Ravikant, che a breve ricaricherò anche su YouTube. Cosa dice la aspirational hourly rate di Naval Ravikant? Setta un prezzo molto alto per una tua ora e quello che costa di meno e che non hai piacere a fare, delegalo. Ok, come faccio a dire a Naval che ha detto una cazzata? Non si può, no? Non posso arrivare io a dire a Naval? Ehi, ma che cazzo? Non si può. Infatti non è del tutto una cavolata. Però è un discorso ricco di survivorship bias. Lui dice che anche quando era giovane, leggermente squattrinato, ma stava in crescita, aveva settato un prezzo ridicolamente alto, tipo 5.000 dollari l'ora per il suo tempo, e tutto ciò che costava di meno e che non aveva piacere a farlo e che non era allineato col suo piano di crescita, non lo faceva. Se aveva fatto un acquisto su internet che non lo soddisfaceva, piuttosto che perdere tempo ad una bassa redditività oraria per impacchettarlo e restituirlo, lo buttava. Se la madre gli diceva Naval, viene ad aiutarmi con questo task, e lui dice non aveva voglia, pagava qualcuno per farlo, anche prezzi alti, perché dava a se stesso un valore del proprio tempo molto molto elevato, ridicolamente elevato, per far sì che restasse concentrato su quello che sta facendo. Perché parlo di survivorship bias? Perché ovviamente poi Naval ce l'ha fatta. Ok, piccolo passo indietro. Se sei in fase di crescita esponenziale, ma non lo sai sempre prima di essere in fase di crescita esponenziale, se sei in fase di start-up, se hai del tremendo potenziale, se hai progetti ambiziosi, con alta probabilità che con tempo e dedizione si realizzeranno, insomma, se sei Mr. Rip, praticamente, allora puoi anche ragionare in quel modo. Ma conosco tantissime persone che ragionando in questo modo, ah, io il mio tempo vale di più, quindi adesso mangio fuori tutti i giorni, perché devo creare questa start-up. Ragionando così sono finiti con le pezze al cuore. Se ascoltiamo soltanto le storie di chi ce l'ha fatta e ti racconta che, ah, io ho iniziato dando a me stesso un alto prezzo orario, perché poi ce l'ho fatta, è survivorship bias. Ma torniamo alla domanda delle domande. Come assegnare un prezzo alle cose? È difficile rispondere a questa domanda. È molto difficile. Il nostro cervello non ha tantissimi strumenti. È molto più facile fare anchoring, che tra l'altro, assieme al Decoy Price, sono le due strategie principali con cui i marketers cercano di convincerci a comprare le cose. Quindi è molto facile fare anchoring e basarsi sul prezzo di un prodotto simile o lo stesso prodotto ieri. Sempre ragionamenti relativi, non assoluti. Cioè, ehi, guarda, questo costava 100, ora è in sconto al 50%, quindi è un buon acquisto. Oppure, questo costa 100, ma quest'altro prodotto, che è simile, con qualche feature in meno, costa 50, quindi prendo quello da 50, perché in percentuale mi conviene. Sempre discorsi relativi, ma è assoluti. È difficile fare discorsi assoluti. Cerchiamo un po' di assolutizzare il prezzo di qualcosa. Nel modello capitalista, il prezzo lo fanno domanda ed offerta. Ma quello però, il prezzo risultante, medio, tra domanda e offerta, è l'aggregato di tutta la domanda e tutta l'offerta all'interno di un mercato. La mia domanda personale, però, si discosterà dalla domanda media del mercato di riferimento. Quindi, ipotizzando che i mercati siano liquidi ed efficienti, e ci torniamo su questo, se io ritengo la mia domanda specifica di un bene o servizio essere molto più forte della media di quel mercato, e la mia disponibilità economica sopra la media, o una combinazione dei due, allora sto facendo, in generale, un acquisto a buon prezzo. Quindi questo è un altro criterio utile, anche se ancora relativo, relativo a tutti i players nel mio mercato, ma è già qualcosa. Chiariamo alcuni termini. Con mercato liquido intendo dire che c'è abbastanza domanda e offerta. Il mercato degli xilofoni dorati per mancini avrà raggiunto il suo equilibrio con uno xilofono dorato mancino prodotto ed un compratore interessato a pagarlo 100.000 dollari. Quindi non è un mercato molto liquido. Stesso vale per opere uniche tipo opere d'arte. In tale mercato, ecco, è difficile dire che il mio eventuale acquisto sia a buon prezzo perché il punto d'equilibrio non è un punto d'equilibrio necessariamente efficiente ma basato su pochi samples. Abbiamo chiarito cos'è un mercato liquido. Mercato efficiente intendo dire che il prezzo riflette tutte le informazioni disponibili. Conosciamo la efficient market hypothesis, no? Ad esempio, il mercato dei mappamondi ha un buon equilibrio domanda e offerta, ma quando verrà resa pubblica che la terra è piatta il prezzo crollerà a zero o sarirà all'infinito tipo quando ci sono i francobolli sbagliati come il gronchi rosa e quindi il prezzo attuale non sarebbe un buon prezzo anche in caso di domanda personale più forte della media e un mercato liquido. Perché? Perché un mercato non è efficiente. Quindi un consiglio abbastanza ragionevole è se una cosa senti di volerla con forza hai già superato la 30 seconds rule la regola dei 30 secondi di cui abbiamo parlato qualche episodio fa e se senti quindi di volerla con forza prima però misura quanta farina c'è nel tuo sacco eh, mi raccomando e le tue disponibilità economiche sono al di sopra della soglia di povertà allora comprala. Il prezzo è tararlo sulla volontà di fare lo stesso acquisto da parte di qualcuno che ne beneficerebbe probabilmente meno di te. Ok, non prendo neanche in considerazione la teoria marxista del valore puramente legata al costo di produzione abbiamo parlato solo del modello capitalista ma è quello che al momento abbiamo attorno altre teorie del valore fanno un po' ridere francamente magari utile ai tempi di operai e bulloni ma oggi anche tralasciando il fatto che un talk di Jeff Bezos dovrebbe costare come uno di Alvaro Vitali come faccio a misurare il costo di produzione di un'ora di consulenza di un tizio vabbè comunque un discorso irrilevante al di fuori di Corea del Nord e Cuba il prezzo per la maggior parte del mondo è governato da meccanismi di domanda e offerta quindi non c'è ancora un quindi il discorso come vedete sta diventando sempre più complicato e ricco di elementi opinabili soggettivi circostanziali e relativi non ho una formula magica per dare un vero valore alle cose forse dobbiamo accettare che possiamo fare solo delle stime talvolta anche molto accurate ma c'è una long tail di possibili outcome estremamente positivi difficili da stimare un po' come una call option le downside di un acquisto sfortunato sono limitate il prezzo che paghi al massimo hai buttato quello ma le upside talvolta sono potenzialmente illimitate ad esempio quel Commodore 64 che mi ha fatto innamorare dello scriver codice è stato è costato un occhio della testa a mio padre nel 1984 mi pare qualcosa come 600 600 mila lire 300 euro di oggi ma 37 anni fa era mezzo stipendio era tantissimo è stato un acquisto folle beh quel computer ha acceso una scintilla che ha fatto nascere una carriera che ad oggi oltre ad avermi portato in google mi ha fatto guadagnare penso oltre 3 milioni di euro totale fino adesso in carriera quel Commodore 64 sarebbe stato un acquisto meraviglioso anche se mio padre si fosse si fosse dovuto vendere casa per comprarlo ma non era una cosa scontata al momento dell'acquisto anzi in questi casi non lo chiamiamo neanche acquisto ma investimento investimento su se stessi questo potrebbe e dovrebbe introdurre un altro criterio qualitativo nel giudicare i nostri acquisti cioè quanta crescita potenziale mi sblocca questo acquisto qual è la sua componente di investimento ad esempio ti piace suonare la chitarra non sa se spendere x soldi su una chitarra di più alta qualità applica tutti gli altri criteri già visti ma se ti ronza ancora in testa questo acquisto fallo perché c'è una remota ma non nulla possibilità che quella chitarra sarà il tuo comodore 64 il tuo grande investimento su te stesso molto remota pensaci bene pensaci molto molto bene allo stesso tempo non so sei convinto che vuoi assolutamente comprare quel capo d'abbigliamento costoso firmato ecco qui l'aspetto investimento lo vedo un po' più debole anche se in realtà uno potrebbe ambire a fare una carriera nell'ambito della moda oppure magari in certi altri ambiti un buon vestito ti fa fare carriera più velocemente ok vabbè cattivo esempio alla fine sto trucco c'è più possibilità del chitarista sfigato di prima ma credo abbiate capito il concetto no un investimento va giudicato con criteri e con logiche diverse da un acquisto che si deprezza e va a perdere benissimo oggi chiudiamo qui questo episodio che credo sia il penultimo perché ho ancora delle cose da dire a riguardo e poi ci prendiamo una pausa e parliamo di tante altre belle cose vi auguro un buon fine settimana e spero di vedervi oggi pomeriggio la live del venerdì che devo ancora capire su cosa farla ma il vostro rip vi aspetta un abbraccio ciao